Si chiama Gorgui Laminsou, è un immigrato senegalesi in Spagna e pensate che è riuscito a salvare da un incendio una persona disabile. Ha compiuto un gesto eroico, un gesto straordinario di suo genere. Il giovane infatti ha visto del fumo uscito da una finestra e si è rampiato dal balcone. Si è accorto che c'era qualcuno in pericolo che si chiama Alex Caudelli Webster, disabile di 39 anni e gli ha salvato la vita. Alex è vivo e beccito. Eppure è un migrante costui, come vedete ci sono persone straordinariamente belle, umili e straordinarie come costui che è andata a salvare la vita proprio a questo disabile di 39 anni d'età. Se non ci fosse stato questo migrante probabilmente l'uomo sarebbe morto. Grazie a voi utenti di Youtube, complimenti a costui, ripeto, che si chiama, rivedo, Gorgui Laminsou che ha salvato la vita Alex Caudelli Webster. Salutoni cari a voi.